La stagione estiva delle Terme di Caracalla si apre sulle punte di Giselle, un classico della danza di tutti i tempi. Sotto la luna romana in questo scenario unico al mondo per suggestione e bellezza, gli occhi sono tutti per lei, Svetlana Zakharova, etual del Bolshoi di origine ucraina. Una vera stella nel panorama internazionale della danza, che interpreta la versione di Patrice Barth insieme al corpo di ballo del teatro dell'opera. Il coreografo francese firma anche l'impianto scenico, impreziosito dal tocco magico dell'indimenticata regina dei costumi, Anna Anni. A dirigere le musiche composte da Adolf Adam è l'inglese David Gerford. Sì, è la prima volta per me di dirigere da questo luogo splendido, straordinario e questo ambiente creato per Terme di Caracalla è veramente meraviglioso. Cosa pensa della ballerina della Zakharova, questa Giselle? Per me è uno dei più grandi del mondo, ho lavorato molto con lei, ho fatto molto repertorio, grande repertorio, lago di Cini, la bella donna di Tarta, lei meravigliosa, tecnicamente, come interpretazione. Il balletto in due atti sul soggetto di Teofil Gauthier sarà in scena fino al 10 luglio.